Lo skate park realizzato ad Ostia dal decimo municipio torna al centro delle polemiche. Secondo la capogruppo della Lega, Monica Picca, l'intera area su cui sorge la struttura dedicata ai giovani del quartiere non sarebbe di proprietà del Comune, ma piuttosto dell'Agenzia del Demanio. Per questo, attacca l'esponente leghista, l'investimento di 600 mila euro per realizzare l'opera effettuato dall'Aggiunta Municipale sarebbe irregolare e illegittimo. Lo skate park sta nascendo in maniera abusiva su un terreno del demanio pubblico, sostiene Picca. La presidente Giuliana Di Pillo avrebbe richiesto per il parco un codice patrimoniale che si sovrappone ad un altro strumento urbanistico, il piano di riqualificazione di Ostia Ponente, che destina la zona verde pubblico e non a una colata di cemento. Chi presiede il municipio non deve nascondere la verità, conclude la consigliera della Lega. Sulla questione interviene la stessa Di Pillo. Abbiamo operato in perfetta regola, sottolinea. L'area comprende la parrocchia di Nostra Signora Bonaria, il mercato comunale dell'appagliatore, le strade e i relativi servizi. Sarebbero allora tutte opere abusive e illegali? Nessuno si azzardi a mettere in discussione un'opera che riqualifica un intero quadrante pensata per le esigenze dei ragazzi del quartiere, conclude Di Pillo.